Non hanno avuto un'infanzia facile, sin da piccoli, quando gli altri bimbi si divertivano con i giocattoli, Roberto e Dario giocavano con e nell'imballaggio, e neanche un'adolescenza facile. I loro amici dopo lo studio si distraevano con le donne, autori, sport, e invece loro studiavano sempre solo in ballaggio. Solo raggiunta la maggiore età hanno potuto iniziare a divertirsi. Ormai tutti i loro amici si erano accasati e loro sono rimasti soli, loro e l'imballo, e hanno fatto quello che hanno potuto. Questo è il risultato.